Il sindaco della città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, è impegnato in prima fila in questi giorni di emergenza per contrastare il coronavirus. Il sindaco ogni sera, tramite la sua pagina Facebook, rende conto ai cittadini degli aggiornamenti riguardanti il virus e anche di chi non rispetta il decreto firmato dal governo. Questa mattina intanto De Luca ha affermato di voler chiudere tutte le attività di Messina per tre settimane, tranne quelle dei generi di prima necessità. Stiamo preparando l'ordinanza che vede a tutti di uscire dalle proprie abitazioni, dichiara il sindaco metropolitano. Sarà prevista la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sino al 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione emergenziale necessita di prese di posizione decise per qualcuno, anche in popolari. Chi vuole è libero di impugnarle, prendendosi le conseguenziali responsabilità. Se le regioni del centro nord sono in emergenza, pur avendo dal punto di vista sanitario strutture all'avanguardia, continua De Luca, qui al sud l'aumento del contagio sarebbe una tragedia annunciata. Da mie riservate notizie, in tutta la provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione in Sicilia. Saranno 70 in tutto. Ma anche se fossero 150 rispetto al rischio di una pandemia nel nostro territorio, che cosa succederebbe? Attendo che qualcuno mi smentisca. L'aumento della diffusione del virus in Sicilia sarebbe una tragedia annunciata. Il mio invito, conclude il sindaco Pelloritano, è sempre lo stesso. Buon senso. State a casa, evitate di prendere o diffondere il coronavirus.